Oltre 20.000 persone presenti nel centro città per assistere all'evento principale del Summer Festival. Tananaia, Achille Lauro, Gaia, Matteo Romano, Disco Club Paradiso, Frada, Rizzo e Fluente hanno animato la serata del 16 con le loro canzoni incantando il pubblico presente. Un evento che ha coinvolto tutte le fasce d'età, che ha animato tutto il centro cittadino portando non poche risorse alle attività commerciali presenti in città. Fin dalle prime luci dell'alba di ieri, tanti giovani hanno iniziato a posizionarsi sotto al palco per prendere i posti migliori per essere protagonisti al Summer Festival trasmesso in diretta anche su Radio Rai 1 che ha dato risonanza nazionale alla manifestazione. La serata si è svolta in un clima di festa con i maxi schermi posizionati in zone cruciali di Corso Vittorio Emanuele che ha permesso la dispersione della fonda in più punti del centro cittadino. Fatto sta che vanno dati i meriti agli organizzatori di aver portato in città un evento che non si vedeva da tempo capace di coinvolgere migliaia di persone che hanno invaso la città come non si vedeva da anni. Una manifestazione che ha registrato dati di affluenza pari se non superiore ad eventi del passato come il concerto di Pino Daniele. Il Summer Festival e l'evento di ieri sera sta riscontrando un enorme successo senza pari capaci di animare l'estate avellinese attirando a sé persone provenienti da zone limitrofe ma anche fuori regione. Certamente però ci sono delle migliorie da fare come l'audio non proprio eccellente per una manifestazione così ampia o i collegamenti con le periferie e con gli utenti che hanno riscontrato non poche difficoltà nel comprendere dove poter prendere le navette messe a disposizione dal comune. Dettagli non di poco conto che potranno essere perfezionati nel futuro prossimo che non vanno a ledere la bontà e il successo dell'amministrazione.